Buongiorno a tutti, sono Marta Vetti, Clinical Study Coordinator presso l'infrastruttura ricerca, formazione e innovazione diretta dal dottor Maconi. Di cosa si occupa il Clinical Study Coordinator? Si occupa di quelli che sono tutti gli aspetti relativi all'attivazione e alla conduzione degli studi clinici. Si interfaccia con lo staff clinico, con i promotori, con i comitati etici, con gli enti regolatori per consentire lo svolgimento di una ricerca clinica di qualità. Purtroppo la figura del Clinical Study Coordinator non è riconosciuta a livello della sanità per cui l'attività è consentita attraverso borse di studio. Finanziare la ricerca vuol dire consentire di attivare delle borse di studio per questi giovani Clinical Study Coordinator per cui con un vostro contributo attraverso Solidal è possibile consentire lo svolgimento di queste attività da parte del Clinical Study Coordinator, figura fondamentale nella ricerca clinica.